Oggi si narra la risonanza PET con scientigrafia. Un terzo della radiazione di un'attacca, una risoluzione migliore dell'attacca. L'unica risonanza in Italia, ma soprattutto, ricordiamolo, la dimostrazione che le promesse che avevo fatto si sono mantenute. 70 milioni di euro all'anno di investimenti in tecnologie che si concretizzano oggi con questa macchina, si sono concretizzate la scorsa settimana con robot di chirurgia all'ospedale All'Angelo e si concretizzeranno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, con altre tante attrezzature di elevatissima qualità. Come procede la sua battaglia alle liste d'attesa? Ho incontrato i direttori generali con risultati assolutamente ottimi, visto che si vede anche un miglioramento in questi tre anni. Ovviamente si può fare sempre di più, ma il 90% delle ULS supera la percentuale di oltre il 90% rispetto ai tempi previsti della legge. Domani giornata della memoria? Domani giornata sarò presente al ghetto ebraico, come tutti i giorni, chi tocca un'ebraico è come se toccasse uno di noi. Questo deve essere lo slogan della giornata della memoria di domani, visto considerato quello che è accaduto. Ricordo che i fatti di Parigi non sono assolutamente irrilenti sotto questo profilo, c'è una recluscenza di guerra, di battaglie, di antisemitismo che dobbiamo assolutamente evidenziare.